Oggi presentazione della nuova offerta formativa di Unicam, appena insegnita di migliore piccola università d'Italia. Perché è importante che il Consiglio regionale sia vicino alle istituzioni accademiche? È importante soprattutto su questi temi, quello della cultura, dei flussi migratori, che sono due temi di grande attualità. Ed è importante perché stare vicino all'università di piccole dimensioni come Unicam, che ha ottenuto un grande risultato, è un segno di vicinanza soprattutto dopo le grandi difficoltà che si sono avute dopo il terremoto del 2016. Quindi merito di Unicam per i risultati raggiunti, merito dei due rettori che si sono succeduti in questi anni, Corradini prima e Pettinari poi.